E' nato il Comitato Salute Aretino dalla volontà di alcuni cittadini di tutelare il diritto alla salute e alle cure. Giovedì 22 novembre a partire dalle 21 al Caffè dei Costanti si terrà il primo incontro pubblico. Quando nasce un comitato vuol dire che le cose non funzionano, questa è la realtà. L'ospedale di Arezzo ha bisogno di ritrovare la sua dignità, gli ammalati in modo particolare hanno bisogno di trovare la loro dignità dal punto di vista alberghiero, dal punto di vista delle cure e dal punto di vista della sicurezza. In futuro noi non è che saremo critici quando ce ne sarà bisogno, ma saremo anche collaboranti con l'azienda. A seconda del caso, se c'è bisogno di essere critici, di essere pesanti contro l'azienda, contro l'amministrazione di questa azienda, noi lo saremo. Cos'è che non va? Tante cose, tante cose. Questo ospedale è nato come il quarto polo universitario della Toscana. Bene, è sempre stato deglassato in continuazione, specialmente negli ultimi sei o sette anni. Questa amministrazione ha delle grosse responsabilità. Il neonato copitato è promosso dal Comitato Salute Casentinese. Siamo qui infatti per promuovere e sostenere la nascita di questo Comitato perché appunto in seguito a questi continui depotenziamenti, ma in primo luogo in seguito agli accorpamenti distrettuali, siamo stati ovviamente tutti dirottati dalle vallate limitrofe sul distretto aretieno e quindi al Sandonato di Arezzo. Nonostante siamo stati dirottati sul Sandonato, questo non è stato adeguatamente potenziato. Quindi a oggi riscontriamo tra le criticità un sottorganico allarmante.